Renzo Fantucci, esperto di enogastronomia che insieme a Claudio Spallaccia curerà gli educational nella due giorni di Fior di Caccio. Innanzitutto se ci può dare una panoramica delle principali produzioni casearie di Vallo di Nera e del territorio limitrofo. Sicuramente Vallo di Nera, io sono nato lì per cui mi ricordo i vecchi pastori, Valle era pieno di pastori, e oggi forse sono diminuiti di tantissimo, però devo dire che è un comune che offre ancora, dà ancora la possibilità a chi è rimasto nella pastorizia e speriamo che cresce appunto questo mestiere, questo lavoro, perché tira fuori dei formaggi che sono veramente eccezionali. Fori dei formaggi legati molto al pecorino, classico che si faceva un tempo, che è stato tramandato da generazioni, però devo dire che le nuove generazioni hanno in qualche modo, stanno in questo momento diversificando anche la produzione e stanno dicando fori dei formaggi che sono veramente interessanti. Non solo pecorino, ma sappiamo che la tipologia, la diversità del formaggio è legata alla tecnica di produzione e devo dire che stanno affinando appunto la tecnica di produzione per tirare fuori dei formaggi con un latte che è straordinario, che sono veramente molto interessanti. Ad esempio, cito un caso, nella zona che lo conosco più da vicino, diciamo, nella zona di Cascia, c'è un produttore, l'azienda agricola, posso fare anche il nome e cognome, di Rossi Rita, è il fratello Francesco, dove loro hanno di origine circa un 200 pecore, ma poi negli anni si sono aggiunte circa un 200 capi di capri, la razza Sanne, che devo dire che hanno messo a punto dei formaggi che sono veramente dei caprini che sono veramente interessanti, è una tecnica di lavorazione diversa, non è la solita coagulazione presamica con il caglio, ma è la coagulazione cosiddetta lattica che appartiene più alla tradizione francese di origine, però devo dire che pur non stando in un territorio vocato per questa produzione, hanno tirato fuori 6 o 7 tipologie di formaggi che sono molto interessanti. Mi sembra di capire anche dalla grafica della locandina, anche la ricotta è uno di quei prodotti che viene prodotto in gran quantità? La ricotta non solo viene prodotta in gran quantità, io tra l'altro ho un parente, lui non fa in tempo a fare la ricotta salata perché gliela rubano quasi quella fresca, ma poi vorrei dire un'altra cosa riguardo questo prodotto, ricotta già la dice tutta, la ricotta, cioè la ricotta viene fatta con il siero dopo la lavorazione del formaggio, sfruttando le siero proteine, non ci sono più le caseine, così dovrebbe essere, mentre invece se andiamo a comprare a volte la ricotta, in alcuni punti vendita andiamo a leggere l'etichetta che c'è aggiunta di latte o addirittura di panna, invece qui troviamo la ricotta del territorio fatta ancora veramente con il siero, soltanto con il siero, per cui è una ricotta estremamente originale come si faceva un tempo. Nel corso degli educational ho letto farete anche degli abbinamenti con altri prodotti, in particolare il vino. Beh sì, questa è un po' la mia passione che porta avanti da tanti anni, da quando è nato Fior di Cacio in pratica curo io questa parte, precedentemente io ho fatto dei corsi con l'ONAF, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, legati appunto all'analisi sensoriale dei formaggi, dove io racconto non solo il territorio, non solo il formaggio, ma racconto anche il percorso di degustazione, non dobbiamo mangiare solo per nutrirsi ma per scoprire qualche cosa nel cibo, per cui facciamo una valutazione attraverso un percorso che va dalla fase visiva, olfattiva, gustativa e poi se ne parla sicuramente nell'ambito della degustazione, viene fuori anche una piccola votazione sul miglior formaggio, però devo dire che è un percorso che aiuta a crescere proprio la cultura delle persone, del territorio che vengono a questi educational. Per chiudere, pecorini, ricotte, caprini, ma comunque la varietà che si potrà trovare a Vallo di Nera sarà vastissima perché abbiamo sentito oltre 60 espositori? Assolutamente sì, ci sono 60 espositori che poi portano altre tipologie di formaggi venendo anche magari da alcuni territori un pochino più distanti. Quest'anno, come ho già citato precedentemente, abbiamo coinvolto i fratelli Ciotti che sono degli affinatori, la figura dell'affinatore in Francia è molto presente, addirittura c'è l'albo degli affinatori, in Italia sta prendendo corpo in questi ultimi anni, dove racconteranno e faranno assaggiare i loro formaggi affinati in vari modi e racconteranno qual è la figura dell'affinatore, questa figura che in pratica alleva i formaggi, li prende quando sono freschi e si li porta al massimo della maturazione e della piacevolezza. Per cui è un percorso che richiede esperienza, richiede conoscenza e secondo me l'abbiamo inserito appunto questo spazio dedicato all'affinatore proprio per far capire che i formaggi vanno gustati al massimo della piacevolezza.